Ciao a tutti ragazzi, ultimora importantissima riguarda lui, Zlatan Ibrahimovic. Domani, dopo la partita contro l'Elas Verona, Ibra saluterà il pubblico di San Siro. Ci sarà una cerimonia proprio a San Siro dove si saluterà Zlatan Ibrahimovic, che a questo punto credo che abbia terminato la sua esperienza in rosso-nero. È un'ultima ora che sospettavamo, chi segue questo canale sa che nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, la sensazione era questa, tra l'altro come sempre vi invito ad iscrivervi al canale proprio per avere queste ultime ore importanti. Ma secondo quello che ci fa sapere il Milan, domani sera al termine dell'ultima gara di campionato prevista alle ore 21 contro l'Elas Verona-San Siro, il Milan saluterà Zlatan Ibrahimovic con una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico. Il club rosso-nero intende così ringraziare Zlatan per questi anni magnifici vissuti insieme. Un grande applauso a questo grandissimo campione Zlatan Ibrahimovic. Faccio vedere ancora la sua maglia, maglia dello scudetto, era stato fondamentale nella stagione dello scudetto Zlatan Ibrahimovic, un grande, grandissimo professionista che fino alla fine ha voluto stare all'interno della rosa, del gruppo, ma ha maturato questa decisione. A questo punto le strade tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic si separano perché domani ci sarà questa cerimonia di saluto e così il Milan intende ringraziare Zlatan per tutti i sacrifici che Zlatan ha fatto per questa squadra, per questa maglia, per questi colori. e quindi è una giornata anche triste domani perché si chiude l'era di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. È una giornata che ricorderemo tanto per l'allungo, per tanto tempo, 4 giugno 2023. Ci sarà il saluto del Milan e dei suoi tifosi allo stadio per Zlatan Ibrahimovic. Cominciamo subito con le notizie perché oggi c'è stata la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Elas Verona, ultima gara di questo campionato e la prima notizia che possiamo tirare fuori è che settimana prossima ci sarà un vertice di mercato tra la dirigenza rossonera Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli per entrare più nello specifico dei colpi da fare sul calciomercato, da fare durante la sessione estiva di mercato perché a grandi linee abbiamo capito il Milan dove andrà ad agire. Prenderà due centrocampisti, prenderà un trequartista, un esterno destro, un attaccante e probabilmente anche un sostituto di Teo Hernandez ma nello specifico ci sarà una riunione programmatica proprio con l'allenatore Stefano Pioli, Maldini, Massara e quindi tutta l'area scouting per andare a sottoporre anche all'allenatore i giocatori più desiderati e più congeniali e funzionali al suo modo di giocare. E a proposito di vertici, attenzione perché settimana prossima potrebbe esserci un vertice tra la proprietà e la dirigenza. Si parla proprio di un contatto che è comunque naturale perché giustamente bisogna programmare nel modo più dettagliato possibile la campagna acquisti, capire quanto si può investire, capire chi si può vendere, insomma un colloquio, un summit, un vertice importante tra la proprietà con il possibile sbarco di Gerry Cardinale a Milano, Paolo Maldini, Massara, insomma tutti, Giorgio Furlani, amministratore delegato Rossonero, tutti i vertici del club milanista perché è tempo di programmare e decidere in maniera dettagliata quello che poi andrà ad essere, quello che poi sarà il mercato del Milano, quindi delineare le mosse principali. E questa è la prima informazione che possiamo darvi in questo video. Ha parlato Stefano Pioni in conferenza stampa, oltre a parlare anche di alcuni giocatori come per esempio Diaz e Kamada, ma faremo il punto proprio in questo video, ha dato anche un voto alla stagione, all'annata del Milano tra Champions League e campionato, più o meno è un po' il ragionamento che abbiamo fatto noi recentemente qui su questo canale, cioè dividendo la stagione tra Champions e campionato si danno due voti e poi si fa la media del totale, la media della stagione. Pioli ha dato 8 alla Champions League, al cammino in Champions, Milan che è arrivato ad un passo dalla finale di Istanbul, poi purtroppo è uscita la squadra rossonera contro l'Inter, contro i rivali dell'Inter che il 10 di giugno si giocheranno la finale con il Manchester City e ha dato 6 invece al cammino in campionato. Vediamo se il Milano chiuderà quarto o terzo, ma sostanzialmente non è stato poi raggiunto l'obiettivo che tutta la squadra si era prefissata ad inizio stagione, cioè quella di agguantare la seconda stella, quindi il ventesimo titolo nazionale. 6 e 8 diviso 2, 6 più 8 diviso 2 porta al risultato di 7, quindi secondo Pioli la stagione del Mian è stata da 7 in pagella, risultato che arriva dall'8 in Champions e dal 6 in campionato. Dite la vostra, mi trovo abbastanza d'accordo, il mio voto personale è stato 6 e mezzo perché avevo dato 8 alla Champions e 5 al campionato, se si fa la media si arriva a 6 e mezzo. Dite anche il vostro punto di vista proprio sulla stagione rossonera. Dicevamo i vertici con la proprietà e con la dirigenza per il calciomercato, il voto di Stefano Pioli che però ha parlato anche di Kamada, ha detto che è un giocatore intelligente, lo conosce bene, non c'è neanche bisogno di vedere la partita, la finale di Coppa tra l'Ipsia e l'Eintracht di Francoforte. Su Kamada ci sono dei piccoli intoppi per quanto riguarda l'aspetto burocratico relativo al suo procuratore, non al giocatore, quindi l'affare non è a rischio, anzi è già tutto praticamente fatto, c'è un accordo verbale ma manca l'ultimo tassello che riguarda una questione relativa alla burocrazia dei suoi agenti giapponesi in Italia. Questo è un po' il problema che potrebbe far slittare la firma e le visite mediche di Kamada in rosso nero. Un Kamada che viene descritto da Pioli come un bel giocatore, giocatore intelligente, naturalmente lui non ha potuto confermare la notizia perché finché non è ufficiale, finché non è un giocatore del Mian a Pioli non si è mai sbilanciato, però ha detto è un giocatore intelligente e qualche minuto prima aveva risposto ad una domanda proprio su i giocatori forti che chiedeva in rosa per la prossima stagione, lui ha detto voglio giocatori da Milan, giocatori forti, giocatori intelligenti, quindi ecco il collegamento con Kamada. Tra l'altro ha detto non mi interessano che siano giocatori di 20, 25, 30 anni, giocatori che costano molto, giocatori che costano poco, l'importante è che siano intelligenti e poco dopo sottolinea il fatto proprio che Kamada abbia questa qualità di essere giocatore assolutamente intelligente. Tra l'altro lui segna anche abbastanza, abbiamo visto i numeri in qualche video fa, segna, fa assist, giocatore molto disciplinato arrivando poi da una cultura fantastica ma come quella orientale del Giappone dunque Kamada dovrebbe appunto essere il primo acquisto. Attenzione a Diaz perché Pioli dice non so nulla del suo futuro, tra l'altro Diaz è stato fermato da alcuni tifosi proprio fuori al centro sportivo di Milanello e i tifosi hanno detto a Diaz resta, rinnova, non andare via, non andare al Real Madrid ma da quello che sono le sensazioni di queste ore il Real Madrid è fortemente intenzionato a riportarlo a casa. Quindi è molto probabile che Brian Diaz resti al Real, dico resti perché in effetti è un giocatore ancora del Real Madrid, è sempre stato un giocatore del Real Madrid. Quindi il Real avendo la possibilità di trattenere in squadra un giocatore di loro proprietà hanno tutta la libertà di decidere di scegliere. Se Brian Diaz dovesse rimanere al Real dopo tre anni di prestito al Milan così come sembra anche se poi da quello che ci risulta ci sarà anche un colloquio tra Milan e Real Madrid su Brahim, ma ripeto la sensazione al momento che le possibilità siano poche che possa vestire di nuovo la maglia rossonera, il Milan potrebbe andare su Berardi. Berardi che gioca a destra quindi sostanzialmente quello che il Milan va a risparmiare sull'acquisto a titolo definitivo di Brian Diaz lo va a spendere poi sulla corsia di destra del 4-2-3-1 o magari anche del 4-3-3 per Berardi. Dunque è lui un po' il nome inseguito, un po' lui il nome del probabile acquisto. Ovviamente diamo ancora il beneficio del dubbio perché non c'è ancora come dire secondo me una trattativa avanzata ma è un giocatore che interessa parecchio a Maldini e Massaro, un giocatore che ha comunque dei buoni numeri sia in gol sia per quanto riguarda gli assist e dunque va monitorata la situazione Berardi. So che non piace a tutti, vedo i vostri commenti, li leggo anche sui social, c'è chi dice sì portiamolo a Milano, c'è chi dice non ha mai fatto il salto di qualità, probabilmente non è adatto a una big ma lui si è esposto e a Sport Week ha dichiarato mi piacerebbe giocare la Champions League, in Milan la Champions l'anno prossimo la giocherà, quindi staremo a vedere. Per quanto riguarda la probabile formazione verso Milan-Elas-Verona, ultima partita di questo campionato davanti a oltre 70.000 spettatori, il Milan dovrebbe schierare più o meno la stessa formazione che ha battuto 1-0 la Juventus una settimana fa proprio all'Allianz Stadium. Vi saluto e ci vediamo nella giornata di domani.